Sì, prima di lasciarvi al video, nel video ho detto che il video uscirà alle 6 però ragazzi uscirà prima verso le 4 e mezza 5 e buona visione del video ragazzi, bella bella a tutti ragazzi, eccoci qui, ritornati dopo tantissimo tempo e si ragazzi siamo tornati allora ragazzi, questo sarà il primo video e il primo video dopo tantissimo tempo dopo 11 mesi oppure di meno, 9-10 mesi che vi spiegherò cosa è successo allora ragazzi avete visto l'ultima live avete visto solo live dopo che sono tornato dalla vacanza di playstation, di fortnite e di fifo si è rotta la playstation e adesso poi ho pensato non conviene fare solo video diciamo che si vede la mia faccia e però poi prendendo di nuovo il canale in mano andando a vedere come andava e tutto 60-70 visualizzazioni a video ho detto, ricominciamo e però vi posso portare anche i video da Xbox One non si vede, però sto dietro a me di fifa 18 però perché fifa 20 fifa 19 non l'ho comprato però arriverà fifa 20 tanti altri giochi fortnite però live non si possono fare solo video se vi piacerà le faremo però però non vi prometto niente perché arriveranno più video con la mia faccia calcio mercato e squadra che mi piaceva molto top 11 top 5 top 10 giochi dal cellulare queste cose qui arriveranno perché ragazzi come dire non conviene mi perdo solo tempo perché allora devo fare video da Xbox registrare li devo passare sul cellulare li devo editare dal cellulare devo fare la copertina invece gli altri video faccio registrare il cellulare prendo li edito e faccio la copertina invece la devo fare da lì la devo passare qui devo editare devo fare la copertina ragazzi però ogni tanto arriverà non vi dico quanto però arriverà per ragazzi vi vediamo in un prossimo video penso che il prossimo video questo qua vi uscirà verso le 5 o le 6 del giorno 15 giugno perché siamo in estate ragazzi dopo tantissimo tempo e che dire ragazzi cominceremo tutto non vedo l'ora di cominciare più forte di prima spero che continueremo a fare come facevamo prima le visualizzazioni e per questo video è tutto ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi da Evold e Gigi è tutto che un prossimo video è tutto